Oggi siamo in cantiere di questa nuova casa di legno con isolamento in paglia ad altre prestazioni. Abbiamo ultimato la posa della prima mano dell'intonaco di calcio. Andiamo vedendo nel dettaglio. Adesso in alcuni punti è ancora bagnato. Per me si può vedere che l'intonaco è fresco. All'interno abbiamo messo una rete in modo da evitare che si possa fessurare. Questo color nocciola è colore della calce. Qui abbiamo le tre finestre, la cucina, il soggiorno, la camera da letto che si affacciano su quelle montagne. Qui creeremo un porticato panoramico che va a guardare quelle montagne e questo sarà l'ingresso carraio dove quella macchina si arriverà. Quello a destra con i pannelli fotovoltaici che è stato completato con l'intonaco di calcio e rimarrà di quel colore lì, un colore nocciola, il colore naturale di quel tipo di calcio lì che abbiamo pensato di utilizzare. Qui vedete lo sport di gronda in modo da preservare questa facciata quando piove e questa parte qui dove andremo a creare un porticato con la vista verso panorama. Oggi è tutto e ti ricordo che la mia casa ad alta prestazione la trovi su edificitipaglitalia.com